Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi andremo ad analizzare Crossover Preaker Ovviamente sarà una macrovisione Perché poi andremo ad analizzare ovviamente anche gli archetemi Un po' più nel dettaglio Però, ad oggi andremo a vedere questo set Prima di iniziare come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi nel suonale Prima di essere sempre aggiornati Ricordo dell'iscrizione ci aiuto tantissimo Io vi ringrazio come sempre Link in fantasy store in descrizione Per preordinare il set Con il codice sconto e ovviamente il link Affiliato tramite il link Ovviamente date una mano al canale Detto ciò partiamo Allora, questo set ci presenta tre nuovi archetipi Rysol, Apodracosis e ovviamente Malis Quest'ultimo è quello più forte in sostanza Ed è quello che al 100% ti entra in gamba tesa nel meta Poi ci sono gli altri due Allora, Apodracosis è quello secondo me un pochino più sottovalutato come mazzo Perché è un pochino particolare Con tutto ciò che comunque ha il rituale Che comunque è fortissimo Ha la carta magia, questa qui terreno Che te ne fa calare tre E poi ovviamente ha le tre continue Che servono ad adattarsi ovviamente In base ai tre Pokémon In sostanza Vabbè, diciamo che Noi diciamo Pokémon Ma entrambi sono abbastanza formati da Comunque culture Perché sappiamo che Konami E i suoi disegnatori mixano robe Quindi abbiamo questi tre mostri enormi Che ci consentono Tutti e tre di comunque aggiungerci le carte Magari questo te lo meschierai il mazzo Questo te lo scarti Questo te lo banni Si evocano tutti e tre con i propri effetti Però la maggior parte delle volte Comunque li evochi con ovviamente la terreno Hai Varudras che puoi utilizzare il mazzo Il deck gioca anche molto con Vaiseless Voice Diciamo non è male Anche perché comunque molti addigni Ha molti modi di fare le cose Magari l'interruzione non sono il massimo Però è anche macrocosmo Questo mi pare è modo di annullare Si Questo negli effetti Qui si spacca una carta sul terreno E questo mi pare che la bandiva Poi anche la trappolino non è male No gli cambia l'attacco a zero Ecco il fatto di cambiare l'attacco a zero Magari non è il massimo Perché comunque Può essere una cosa Non troppo utile Poi abbiamo Ryzel Ovviamente nel dettaglio Poi non andremo ad analizzarli più avanti Abbiamo Ryzel Ryzel è un mazzo molto interessante Il problema come dissi Ha una lock troppo Troppo impattante Perché possiamo evocare Soltanto rank 4 Però questi rank 4 In realtà Se tu vuoi apprendere A pensare poi Magari faccio la board con Dweller Che ti blocca il cimiter Con Giant End Che comunque Ti fa negate C'ho un modo Per giocarti altra roba In realtà Dico una stronzata Ma si può mettere anche La Trap Tricks Pinguicula Perché alla fine Più che altro Per togliere la roba All'oppo Quando fa il cimiterio E diventa A caso A caso Comunque Già quelli Poi ti metti Vabbè Il solito Baguska Comunque Può essere interessante La terreno è fortissima La terreno è veramente fortissima Hanno tanti modi Di fare estendere In una maniera enorme A di come Non si sa mai La trappola è una buonissima interruzione Ogni volta i mostici Hanno modo per avere materiale E questo qui Staccando le due Ti aggiunge due E poi gli butti sempre giù Questo comunque Fa un'ottima interruzione Anche come entry level In realtà Rysol potrebbe essere Un qualcosa di molto Molto interessante Quindi perché no Perché no Quindi Non Sottolineare neanche lui Anche perché poi Avranno tutti dei supporti Quindi Metti che Rysol O Apodracosis Ti fa il Memento di turno Oppure Apodracosis È uno di quei mazzi Che potrebbe essere messo Come engine Però è troppo Magari Troppo particolare Troppo lento Troppo Meccanico È troppo strano Magari No Rispetto di Di altri mazzi Però potrebbe comunque Essere uno di quei deck Che ti fa da outsider Poi ovviamente Malice Che è quello più forte Che è quello che ti fa Combo A non finire Quello che ti ricicla Tutto quanto Quello che se bandi Ti rievoca tutto Peschi Link sono enormi È modo di fare Delle combo incredibili Trappole attivi subito Ti bandi Quello che ti serve E si rievoca Bandi dal deck Dalla mano Al terreno Al cimitero Quello che ti pare Poi giocarci Shifter Poi non so se puoi andare A giocarci addirittura Macrocosmo Sta roba qui Però Diventa un mazzo Veramente assurdo Anche perché comunque Se tu mi cali Shifter E io mi bando questi Questi si rievoca Con lo stesso Ovvio Poi devo stare attento Perché non è il massimo Magari Bandire più di due volte La stessa carta Perché non posso Rivogarla Però Di base È il mazzo Più forte Che uscirà qui Poi mixarlo con Cyber So come dicevamo È qualcosa di assurdo Perché comunque Vengono fuori Vai da extra link Vai di crifone Vai di tant'altra roba Il mazzo Diventa veramente assurdo È quello che Gioca meglio È quello che gioca meglio Quello che comunque Ti può fare Autic up Tranquillamente Perché poi si rievoca Quando si ridoppia l'attacco Magari con gli effetti Dei piccolini Che Quando un mostro punta Distrugge Banna Quindi Diventa veramente Particolare Ecco Sono tre archetimi Interessanti Ma la di se sarà Quella più forte Io Docchiere tantissimo Rysel Con tutto Che abbiamo detto Che ha una lock Importante Soprattutto per il gioco Di adesso E a potre cose Potrebbe essere Un outsider Interessante Poi abbiamo Delle ristampe Che da noi Diventeranno Di più Perché abbiamo Ragnar Zero Come ristampa Rank 4 Che vabbè Poi abbiamo Dweller Ottimo Drago Tornado Zito zito Spacca comunque Maggia e trappola Redwer Che devo dire Va bene Toglie roba dell'op Può essere interessante Ovviamente Magari qui soffre Un pochino di più Perché non è che Può metterci Maggia e trappole Subito come materiale Però insomma E può essere Comunque interessante Hai modo comunque Di attaccarci roba Redwer Quindi va bene Poi abbiamo Dotscaper Aloflupin Zeroboros Allur Backdoor E Dimensional Fissure Che comunque Sono carte Abbastanza interessanti Perché vabbè Questo si trova ovunque Però se lo bagno Magna il cipitero Se li evoca Due volte In sostanza Quindi può essere Veramente forte Aloflupin Zeroboros Che banda tutto Allur Va bene Backdoor E Dimensional Fissure Appunto Che si può mettere Nel mazzo Poi abbiamo Senju Dalle mine mani Planet Pet Finder Per prendere il terreno Abbiamo Protoss Quindi voglio dire Robot Galaxy Destroyer E Teorologi Card Emi Urgi Che mi pare Era molto interessante Tre livelli 5 Più Tre mostri Livello 5 Più Superiore Non può essere Autorizzata come Link Ai modi Gli effetti Gli altri mostri Non gli effetti Una volta per turno Tante nuove Fese Controliamo questa carta Evocata a Link Utilizzando tre mostri Tipi differenti Come quelli lì E tre attributi Possiamo distruggire Tutte le altre carte Sul terreno Se l'avversario Avaga specialmente No più mostri All'extra deck Possiamo avagare specialmente World Legacy Comunque vi posso dire Che è molto interessante Tra l'altro ci saranno 15 carte nuove Cioè 15 ristampe Per questo set Da noi E quindi veramente Molto bene Cosa dire Secondo me è un set Su cui puntare Assolutamente Perché tra l'altro È un deck Build pack Io sono sempre favorevole Perché vuoi o non vuoi Comunque c'è modo Di farti il mazzo Molto probabilmente Escono da fuori Delle collector Perché c'è un pull rate Veramente alto Non ho mai Non trovato una collector Nei deck Build pack Quindi qualche cosina Di economico Buono Puoi trovare Sicuramente Malissaranno le money card E molto probabilmente Se riusciremo A trovare Delle Abbastanza carte Per quanto riguarda Rysol E Apodragosis Potrebbe essere interessante Non dico Maliss Perché il pull rate Di Maliss Sarà abbastanza basso Tipo Centurion Ne trovi Una ogni 10 pacchetti Più o meno Però per il resto Vi devo dire I mazzi sono interessanti Non mi sento Di bocciarli Magari Apodragosis È quello che parte Un po' più dietro Perché comunque È particolare Rysol E poi Maliss Però Memento Insegna Che bisogna sempre Stare molto attenti Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Cosa pensate ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti Sì E un saluto a tutti